Dal 20 marzo al 2 aprile c'è la convenzione nei circoli, voteranno gli iscritti e poi dopo, chiaramente il 30 aprile, ci saranno le primarie aperte a cui tutti potranno partecipare per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico. Noi abbiamo costituito un comitato a cui hanno aderito tante personalità del Partito. Dobbiamo fare qualche nome? Dal sindaco di Pescara, il presidente della regione Abruzzo, i parlamentari di Pescara, i consiglieri regionali, tutti gli assessori del Comune di Pescara, i consiglieri comunali, i segretari di circolo, insomma ci siamo un po' tutti. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di ridare grande spinta, grande forza al Partito Democratico come forza politica capace nel nostro Paese sicuramente di dare delle risposte concrete al primo posto e per questo ci stiamo battendo e ci batteremo. Al primo posto sicuramente c'è il tema dello sviluppo e quindi dell'occupazione, soprattutto quella dell'occupazione giovanile. Il nostro obiettivo è quello di ridare la speranza e un futuro ai nostri giovani, questo non può che essere attraverso il lavoro, attraverso un reddito. Le competizioni sane ben vengano, poi dopo chi ha in mente di distruggere una forza così grande, quella sicuramente non è la nostra idea e non lo permetteremo sicuramente.